È in arrivo Onse Channel, il primo canale interamente dedicato a 11 e 11 campioni. La serie Disney sul calcio più appassionante di sempre. Siamo diventati campioni. Ogni giorno i falchi dorati scenderanno in campo con nuovi episodi. Sì, oggi al falchi dorati, Martin Mejia. Nuove sfide, nuovi colpi di scena. Il calcio sta per cambiare per sempre. Onse Channel, dal 10 settembre sul canale 617 di Sky. Ok, spiegaci che tipo è Gabo e se c'è qualche aspetto della tua personalità che assomiglia al personaggio che interpreti. Gabo è un pobo di un pobo molto umile, è un pobo con molta hambre di giocare al football, di essere un grande jugatore. E questo lo porta all'opportunità di andare all'IAD, che è un ottimo istituto. in Italia già vengono la storia, ma di fare nuovi amici, di ottenere nuove avventure, e io credo che è qualcosa che mi relazioni molto, come le mani di fare qualcosa di grande, di andare avanti, mi sento molto identificato nella mia vita, e è qualcosa che mi fa orgullo, avere la suerte di interpretare a un personaggio con questa qualità, con queste qualità, diciamo. Ok, so che sei un fan di Buffon e Maldini, ti sei ispirato a loro per interpretare il personaggio? Esa è un' eccellente, ah, ho capito, è un' eccellente domanda, e sì, io qualcosa che, per esempio, riscato molto di Buffon, e lo dico sempre, è il signor, che è la classe di personaggio che è Buffon, viveva cose durissime per una carriera di futbolista, e sempre lo attraversa con valori di signor, di persona nobile e forte. Asi che, nada, io credo che questi valori li ha 11 come serie, e li trattiamo di implementare noi come attori e come interpreti di futbolista a diario. Asi che, un pochino sì. Ok, ti piacerebbe vivere in Italia? Nel caso in quale città? Mi piacerebbe vivere in Italia. Mi piacerebbe vivere in Italia. Adesso, ho come obiettivo vivere in Italia, in qualche momento. Io inizio per Roma. Se mi fa la città più compatibile con quello che sto acostumato. Mi piacerebbe. Mi piacerebbe il cinema italiano, quindi se posso fare qualcosa qui, sarebbe incredibile. Ok, l'ultima domanda, ci daresti tre motivi per cui guardare la serie? Tre motivi per avere la serie? È una serie innovadora di Disney, è a dire, mantiene tutti i valori e la diversione di Disney, però di una maniera molto innovadora, differente, che non si vede a diario per i ragazzi. È molto bene. È una serie di calcio, di futbol, il deporte più popolare del mondo, tal vez. E credo che siamo in un momento di calcio importante, con il mondiale, molte cose relevanti che stanno passando, che facendo che il fútbol abbia l'occhio ora. È un momento excelente per verlo. E poi io credo che il terzo motivo è che è per tutti questa serie. La possono disfrutare le donne e le donne con i figli, e anche possono verlo le donne, le donne o le donne, le donne o le primi, perché abbiamo molta storia femenina. Quindi è una serie e una storia molto universale. in questo tempo è una serie di calcio. L'occhio è una serie di calcio, in questo tempo è molto più importante,